Ciao a tutti ragazzi e ragazze e bentornati in questo nuovo video Oggi voglio fare la recensione di Bloom D.Limix che ho comprato col magazine Allora, me l'avete richiesta e io vi faccio la recensione Allora, è fatta in questo modo, con le ali tutte fucse sberlucicanti Poi ha i suoi soliti capelli rossi, con questo fermaglietto nei capelli Poi ha questa connellina che mi piace davvero tanto, che hanno aggiunto a queste nuove versioni delle Winx Dreamix Già questa versione che hanno fatto mini delle Winx Dreamix Con appunto il boy tutto azzurro e fucsia, che azzurro e fucsia proprio stanno benissimo insieme Con la gonna Che la gonna è di un lilla chiaro con i plantini verdi e bianchi E qui è lilla, la cintura tipo, quella che mantiene la gonna Poi qui c'è una farfalla Tutta rossa, brillantinata, che se fate così è traslucida Tipo rosa, boh Poi ha le calze tutte azzurre E con le calze ci sono le scarpe Che sono fatte azzurre Non si vede molto lo spezzo tra le calze e le scarpe Però qua si dovrebbe vedere Le scarpe proprio le potevano fare più scure E poi sotto invece è glicine Lilla chiaro Fatta 5 euro in edicola o 6, non mi ricordo Fatta così Ora vi faccio mini panoramica Ah e qui ha il suo codino Azzurro chiaro pastello Azzurro chiaro pastello Che strana cosa In questa posizione molto wings E niente Speriamo che il video vi sia piaciuto Se così mettete un bel like E iscrivetevi al canale Ciao Ci vediamo al prossimo video Un bacione da me Ah ciao La mia farfalla vi saluterà Azzurro chiaro